I nostri governanti si sono venduti all'Occidente distruggendo la nostra cultura, la nostra economia e l'onore. La nostra terra tinta del nostro sangue e il mio sulle loro mani. Sono degli invasori. Tutti i contingenti USA e britannici devono lasciare subito la Russia. O ne pagheranno le conseguenze. È semplice. O riprendiamo la base missilistica o da domani vivremo in un punto nuovo. Via libera peralo. Squadra Charlie via. Secondo lancio in arrivo. Squadra Bravo pronti. Via. Ok ragazzi. Questo era un po' il riassunto della nuova missione. Bentornati innanzitutto sul canale Gaming Now. Continuiamo con Call of Duty Modern Warfare. Dunque una nuova missione con operazioni congiunte tra Marine e soldati inglesi. Siamo ancora nei panni del soldato inglese. Sop. E dobbiamo praticamente se non ho capito male intrufolarci in questa stazione dove è missilistica. Per impedire che Zakaov come cazzo si chiami lancia il suo bel missilone atomico. In questo momento siamo sempre in Russia. Dobbiamo entrare in questa centrale se non sbaglio. Dobbiamo quindi effettuare un'incursione. Però io prenderei un bel checkinator. Ok. Ci siamo divisi col gruppo. Questi qua sono Marine se non sbaglio però. No, no, boh, non riesco a distinguerli. Ho già visto. Perfetto. Cazzo c'è uno col buzzer. Perfetto. Eliminati. Costacchi, aure, standa qui. Versace, naturalizzato. Oh 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 granata Fancurro E' vico passato E' vico passato E' vico passato E' vico passato Ah c'è qualcuno sui tetti Ci penso io Eccolo là Chi in testa? Qui non c'è nessuno Oh Un bel computer Ma Erano alleati questi? Merda Cioè non riesco a distinguere Chi è ridicolo va Porca puttana E' vero che questi Gli alleati hanno Comparato il nome E' vero Chikinator il progettore No, veramente non tanto. Si può salire qua? Ok. Di qua dove andiamo? Oh! Oh! A presto! uomo a terra cani uomo a terra uomo a terra ai è l'unica che arriva un calarmato oh cazzo è l'unica che è l'unica No, ma che Cristo Mi ha beccato il bastardo Per salire il salito Per salire il salito E' il salito Uomo a terra Solo a testo di carico Guarda che facciamo eh Minchia se ci riesco Cazzo Bastardi Che glielo ho messo a potenza Oh Vabbè riproviamo Oh Che scudo sembra Beccarmi cazzo Fanculo Vamo a terra Dove che sparano Fanculo Batteria nemica Nemico neutralizzato Vamo a terra A terra Vamo a terra che bel paesaggio oh merda ah abbiamo un bel problema delta 1x3 rilevato il missile divento rilevato il missile ce n'è un altro merda non sa che abbiamo fallito c'è un risolativo eh ricevuto bravo 6 penetrate all'interno della struttura e prendete il controllo della sala comandi intanto tenteremo di ottenere i codici di annullamento dai russi il taso è chiuso e ora questi due missile qua dove vanno dove sono diretti rivediamo un po' siete stati nucleari vabbè ovviamente la metto ma stanno già attaccando eh minchia erano già tutto predisposto New York Boston Washington porca puttana bravo 6 siamo ancora impegnati con i russi a breve dovremmo ottenere i codici avanzate passo e chiudo via 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 bravo 6 qui squadra cecchini 2 in posizione pronti a darvi cobertura e ricognizione fatto cazzo cazzo E' un inferno! Noi dobbiamo capire la vanguardia! Lanciate i tuoi! Prezzo in vieno, alla testa! Chi sta passando a parti? Ufra, c'è qua! Granata! Per danneggiare i corazzati solo con cinquattro, grazie! Puoi danneggiare i corazzati solo con cinquattro, grazie! Ma mi ammazza di questo! Le granate non servono a niente! Servono avanti! O C4! Bravo, sei di comando! Rapporto sull'equipagione! Ok! Ho visto! Granata! Regatta! Regatta! Porca puttana ste granate Di merda Una situazione Sto santo 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 Sto Sto santo Sto santo Sto santo Sto santo